Nonostante 12 avvisi indetti tra il 2018 ed il 2019, l'aspedia grigento ci prova di nuovo perché rispetto alle 55 unità previste in pianta organica, soltanto 23 risultano i posti coperti nei pronto soccorso degli ospedali agrigentini, mentre sono 32 i medici che mancano. Una grave carenza di dirigenti medici nella medicina e chirurgia di accettazione di urgenza presso i presidi ospedalieri, aggravata sin dal marzo del 2020 dall'emergenza sanitaria determinata dal Covid, scrivono dall'azienda sanitaria provinciale. Nel corso degli anni 2018 e 2019, ricostruisce l'aspe, sono stati indetti 12 avvisi per il conferimento di incarichi libero-professionali, l'ultimo dei quali non ha sortito effetto per la presenza di partecipanti in possesso dei requisiti di ammissione. Nel dicembre dello scorso anno è stata disposta la prosecuzione dei disciplinari d'incarico libero-professionali stipulati con vari medici, il cui numero al netto di cessazioni e rinunce si è però andato assottigliando e si è ridotto a 6 unità. C'è dunque la necessità di indire un bando per reclutare medici da assegnare ai pronto soccorso, evitando ricadute negative sull'erogazione delle prestazioni assistenziali di primaria importanza. L'aspe, cercando dunque di correre ai ripari, ha disposto un avviso a valutazione comparativa di curriculum e colloquio per il conferimento di incarichi libero-professionali a medici da destinare ai pronto soccorso di Agrigento, Canicattì, Licata, Sciacca e Ribera. I candidati vincitori sottoscriveranno un incarico di 6 mesi. I turni saranno di 12 ore a seconda delle esigenze turnistiche della struttura di riferimento e dentro un limite di norma di 38 ore settimanali con possibilità di articolazione flessibile in turni di almeno 6 ore. L'aspe ha chiarito inoltre che gli incarichi potrebbero risolversi prima della scadenza a seguito di intervenute assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di reclutamento disposte dall'Assessorato regionale alla salute.